Questo video è offerto da Tecnicamente il titolo di città è assegnato a quei comuni che hanno una concentrazione geografica della popolazione, servizi, impianti produttivi. Domani la cerimonia della scopertura della targa alla presenza del prefetto Giussi Scaduto. Che importanza ha per la comunità questo titolo? È una grande onorificenza che il Presidente della Repubblica ha fatto alla città di Augusta e di cui siamo orgogliosi. Un percorso iniziato nel 2021, concluso nel 2022 che qualifica il nostro comune come città ed è veramente, noi siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato. Festeggeremo questa giornata insieme a tutta la città, insieme a Sua Eccellenza il prefetto, insieme a tutte le forze militari, di polizia, a tutti gli imprenditori, a tutti i cittadini, a tutte le istituzioni. E' un giorno importante, un riconoscimento che dà ad Augusta una dimensione anche formale che le compete, quella di essere una città. Cosa cambia per Augusta se cambia qualcosa? Cambia che Augusta diventa città e quindi significa che c'è una questione formale importante che viene definita città di Augusta. In tutti quei rapporti, non solo istituzionali, non cambierà solo la carta intestata del comune oggi e domani città. Anche il nostro simbolo cambierà perché la famosa aquila avrà sulla testa una corona che è quella che qualifica le città. Questa corona viene attribuita solo alle città e quindi Augusta entrerà nel novero di queste città che hanno questo simbolo.